Ciao, ormai mi conoscete, sono Caterina Simonsen, quest'anno ho un progetto carino per la giornata delle malattie rare. Fino all'anno scorso, ogni anno, facevo un video raccontando la mia storia, quanto pare la mia storia è ben conosciuta ormai. Tutti, non dico tutti, però molti sanno cosa voglio dire a vivere con le mie malattie rare, seguendo tutto il casino che c'è stato all'inizio dell'anno, insomma, e quindi volevo unire appunto sotto l'hashtag io conosco le malattie rare, cioè io conosco le MR, e metterò dei video uno al giorno parlando dei problemi, dei malattie rari e non solo. Quindi partirò parlando della definizione, delle malattie, le origini, le gravità, perché non tutte sono gravissime, però molte sono devastanti fin da subito, quindi ci sono quelle a prognosi in faustissima, che i bambini non arrivano neanche all'anno d'età, e ci sono invece delle malattie rare con cui si convive tutta una vita. Parlerò delle malattie non riconosciute dal nostro sistema sanitario nazionale, perché sono tantissime. Le malattie rare sono stimate tipo ad essere oltre 5.000. Il nostro sistema sanitario nazionale riconosce super giù, mi sembra sulle 400-500, però potrei sbagliarmi, non ho ancora preparato il video con i dati, quindi scusatemi se mi sbaglio, però il numero è giù di lì, di quelle riconosciute. Abbiamo dei problemi con gli IMSS, perché spesso gli addetti degli IMSS non conoscono le malattie rare, quindi valutano solo il danno d'organo, quindi magari quello che è il danno d'organo che si può avere ad un anno d'età, tempo che ti arriva la lettera dell'IMS, perché ci mettono un anno buono circa, con la percentuale di invalidità, è già tempo di fare aggravamento, perché si peggiora tanto velocemente. Parlerò del problema della diagnosi, di tanti medici che non conoscono le malattie rare, parlerò anche del problema dei farmaci, perché per noi esistono a volte, perché sono pochissimi, i farmaci orfani, che sono per le malattie rare, cioè per una malattia rara ben conosciuta, e quindi la popolazione che la può usare è poca. Spesso noi abbiamo bisogno di farmaci in fascia C per mantenerci vivi, solo che i farmaci in fascia C, spesso li dobbiamo pagare noi, che vuol dire tipo sborsare anche 1000 euro al mese per una cura. Quando magari per legge, avendo l'esenzione, per malattie rare abbiamo dei farmaci in fascia C che passano in fascia A, solo che questo non lo sanno né i farmacisti né i medici, e quindi non sanno come prescriverci i farmaci di fascia C. E poi parleremo anche dei farmaci a flabel, cioè farmaci fatti, parleremo, no, parlerò, farmaci fatti per una determinata malattia, ma che può essere usato anche in delle altre malattie rare, che però i medici non riescono a darceli, non riescono a prescriverceli, perché è off-label, non ci siamo nel bugiardino, perché l'iPhone non riconosce gli effetti che ci sono sui malattie rari. Parlerò anche dell'importanza della ricerca, come viene fatta nel caso delle malattie rare, il perché abbiamo bisogno di fondi privati, come avevo parlato, come avevo promesso, parlerò del caso della piccola Elisa e parlerò della sua malattia, perché bisogna cercare delle cure, quest'anno voglio dedicare appunto tutto un giorno per trattare la sindrome di Leig che aveva lei e quindi approfondirò e approfondirò con voi e bisogna sottolineare l'importanza della consapevolezza delle persone, l'importanza di sensibilizzare il popolo e l'importanza per noi malati rari di non nasconderci, di farci una vita nonostante la malattia, perché ci si riesce. E poi quest'anno, a differenza degli altri anni, visto che ormai sì, ho portato abbastanza alla luce le mie malattie, farò un video parlando di diverse malattie rare, darò voce in breve, quindi darò 30 secondi a malattia, ma non parlerò delle mie, farò parlare dei conoscenti che hanno altre malattie rare, dei papà di bambini, di persone adulte, quindi niente, la realtà di altre persone, perché è giusto anche questo, perché non sono sola, siamo diversi, però siamo tutti malati e affrontiamo tutte le stesse difficoltà. Quindi basta, volevo solo introdurvi questo e farò un'immagine da tenere come immagine di profilo quando sai cos'è una malattia rara, quando hai capito cosa vuol dire viverci, puoi copiare l'immagine che ci sarà scritto io so cosa vuol dire vivere con una malattia rara, e tu? E quindi, niente, se volete, basta far girare questa immagine. sempre sotto l'hashtag, io conosco le malattie rare, ecco, vabbè, basta. Buona serata e buonanotte, Caterina. Grazie. Grazie.